La Repubblica sta indagando e sul giornale c'è detto che la Procura sta verificando perché la Vale Verde e Serega non hanno mai legato niente, neanche i cani d'Arfite, dove hanno messo i 10 milioni di crediti e di rimagazzino che sono stati venduti. Quindi prima o poi ci arrivano. Due milioni sono stati dati alla *** nell'ultimo anno. Quindi adesso se farai una cosa, ma lunedì sei in ufficio, fai il bonifico, rimandali indietro. Ah, ma ha fatto tutto ***. Sì, ma lo so, lo so, immagino. Un gruppo continuava, no? Favamo un gruppo, i soldi dell'uno sono dell'altro, no? Sì, sì, adesso lo vado a spiegare al Procuratore della Repubblica. Grazie. 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 Grazie.